TEDxBergamo, Bergamo Scienza e l'Università degli Studi di Bergamo per la prima volta collaboreranno insieme per l'evento La Notte dei Ricercatori. Si terrà il 27 settembre il primo giorno di questa edizione di Bergamo Scienza e TEDxBergamo in questa occasione di cosa si occuperà. Formerà otto ricercatori per aiutarli a condividere i loro progetti di ricerca durante questa Notte dei Ricercatori.